Sì, ragazzi, siamo pronti? Il primo stop di oggi è l'antica città di Sistron. È una lunga drive, ma è quello che stiamo qui, non è? Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì, ragazzi. Sì. 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 In 100 metri, turn right. In 100 metri, turn right. In 100 metri, turn right.